A me è piaciuto molto nel complesso la leggerezza nel trattare dei temi molto importanti secondo me e io amo nei film quando non vengono trattati come lezioncine questi argomenti ma semplicemente quando sono integrati perfettamente in una storia e quando tu divertendoti nella storia o commuovendoti nella storia a seconda del film hai degli spunti di riflessione su dei temi importanti ecco quando succede questo io da spettatore godo tantissimo per questo credo che ci sia in questo film per cui sono molto felice di questo aspetto Sì ma perché poi con l'ironia puoi raccontare un po' tutto secondo me sei libero e ci sono tanti segnali per i ragazzi in particolare ma non solo per i ragazzi però qui si parla di autostima, di integrazione, di bullismo di un ragazzo cresciuto senza la figura del padre che non fa altro che dire mi sento come tutti i supereroi che gli manca sempre un pezzetto io credo che ci sia oltre il divertimento assoluto perché comunque io mi sento male quando Lillo parla cinese e io non ce la posso fare penso che ci sia una grande tenerezza tanta tenerezza guarda io ho semplicemente consigliato vivamente ai ragazzi che poi credo secondo me sì, sì, li hanno recuperati e visti alcuni di loro e ho consigliato certi film degli anni 80 da cui questo film omaggia in qualche modo partendo da Cara dei Kid ma non solo cioè proprio quelle atmosfere, quelle storie che sono tipiche di quel decennio da cui sono uscite dei film specialmente nel mondo appunto della commedia che io amo tanto, cioè film che ancora fanno parte dei film che amo di più per cui effettivamente per i ragazzi era pre-storia pura proprio parliamo di pre-storia pura e quindi però poi come sempre accade come quando accade col papà che ascolta Jimi Hendrix e lo fa ascoltare poi al figlio di sette anni figlio di sette anni poi gli piace Jimi Hendrix e diventa fan di Jimi Hendrix e comincia a suonare Jimi Hendrix magari, capito? quindi secondo me quando si tratta di trasferimenti di cose belle è bello vedere anche poi la reazione dei ragazzi che magari non conoscono per ignoranza ma se conoscono poi si appassiona i ragazzi secondo me sono molto belli disciplinatissimi, seri ci tenevano con un cuore bellissimo e devo dire che il momento che amo di più è l'avvicinamento di tutti gli sfigati la riniscina dei nerd sono bellissimi sono troppo carini tra l'altro poi c'è anche la parte in cui però lì lo arriva col monopattino è entrata trionfale cioè ai livelli di Batman siamo a quei livelli là cioè l'entrata alla Batman l'ho fatta io col monopattino la cameriera insomma nel film di un ristorante cinese sì che poi mi viene in mente un ristorante specifico in realtà che non lo diciamo però io ve l'ho fatta altro che pensare a lei anche io avevo anche proposto a reggis ma perché non vedete lei? perché è veramente non so è il centro dell'esquilino in qualche modo ma sì ma perché poi l'esquilino è un mondo è veramente sì la comunità multietnica a Roma non è solo l'esquilino ma perché anche Terpignat però sì è emblematico del melting pot che c'è poi in tutto il mondo perché se vai a New York è così se vai a Londra è così se vai a Parigi è uguale no? e quindi mi piace grazie a tutti Grazie a tutti.